Si parla di ciclismo alla BS Group dove stiamo allestendo il servizio fotovideo della formazione BS Arvedi Premac, una formazione dilettantistica per la stagione 2021. Siamo con Rabaglio, Rabaglio è presidente di questo sodalizio, 16 atleti, squadra dilettantistica. Rabaglio sei contento? Contento sì, siamo riusciti a tenere in piedi anche quest'anno la squadra, abbiamo comunque dato continuità ai nostri progetti, abbiamo una squadra importante divisa in due gruppi, un gruppo che frequenterà quasi esclusivamente la pista con dei ragazzi potenziali olimpici e dopo l'uscita positiva di Colleoni e Conca che sono passati a professionismo abbiamo cercato di integrare con dei ragazzi giovani di prospettiva il gruppo Strada che comunque già dalle prime indicazioni che abbiamo avuto quest'anno sono comunque fortemente competitivi. Marco Milesi, direttore sportivo, ci elenca i nomi dei ragazzi. Bellieri Michael, Bonelli Alessio, Bosini Diego, Carboni Matteo, Ciuccarelli Riccardo, Dresti Nicolas, Galli Nicolò, Giordani Alberto, Gobbo Lorenzo, Lamont Francesco, Moro Stefano, Pinazzi Mattia, Plebani Davide, Scartezini Michele, Serrano Javier e Villa Giacomo. Programmi? Dove correrete? Debutiamo la classicissima di Brescia, San Geo, un gruppo, un gruppo della pista e l'altro gruppo degli stradisti, Frano Firenze, Empoli e La Torre. Siamo ospiti della VS Group, siamo con Bruno Bindoni che lo ringraziamo per l'ospitalità. Bruno Bindoni, lei è ormai dentro fino al collo con questo sport delle due ruote e facciamo i complimenti perché ha dato la possibilità a questa squadra di crescere sempre più e l'anno scorso su questi podi del Giro d'Italia dilettanti avete veramente raccolto grandi consensi. Grazie a voi, grazie a tutti soprattutto in questi momenti difficili, un ringraziamento al nostro team, soprattutto ai nostri sponsor che ancora una volta si sono prodigati per costruire ancora un'altra squadra di giovani che sicuramente spero proprio che ci saranno delle soddisfazioni tali quanto ci hanno lasciato i nostri ragazzi nel 2020 passando addirittura in alcune squadre Pro Tour. La mia speranza e il nostro obiettivo comune è sempre quello comunque di far crescere i nostri ragazzi più che altro per loro ma soprattutto per le nostre soddisfazioni personali. Sapete quanto condividiamo tutti? Non è uno sport, è una passione purtroppo, purtroppo per fortuna, quanto condividiamo tutti questa passione. Il signore Gabriele Scalmana, presidente onorario, è felice per questa formazione, lui che per 50 anni ha guidato il gruppo sportivo Gavardo, diventato poi BS Group, Arvedi, Premac, un gruppo di amici messi insieme per realizzare questo momento magico. A questo livello bisognava unire forze in tutti i campi per dire che è bello avere una squadra così, abbiamo avuto delle belle soddisfazioni anche l'anno scorso con il Giro d'Italia e tutto. Purtroppo le corse sono limitate ma il gruppo c'è e grazie a Bindoni, con l'ABS, la Premac, FPT e i vari sponsor. Diciamo, Brescia è collegato bene con Cremona e tutto. Ad Angelo Tonoli, Marchio Premac, chiediamo se è felice di far parte di questo sodalizio, di questa squadra, una squadra di dilettanti che ha già dato tante soddisfazioni al mondo del ciclismo italiano in particolare. Sì, certo, questo è il settimo, ottavo anno che sponsorizzo questa squadra con la quale io ho anche rapporti di amicizia con Scalmana, con Davide Boifava e penso che continueremo ancora anche per gli anni a venire, vediamo.